Sono pro vaccino io, in questo caso poi particolarmente. Fare la propria parte e per noi vuol dire adesso faccio vaccinare. Bon Giovanni, Caioli, Chiara Cane. Siamo la prima regione italiana in questo momento a somministrare i vaccini AstraZeneca. Prima riusciamo a farlo tutti e più stiamo tranquilli. Io sono l'insegnante. Il vaccino è importante, è importante raggiungere a questo punto l'immunità di gregge. Questo vaccino è stato testato a lungo e molto sottoriflettore di tutto il mondo. Non credo che si possa discutere e sindacare di cose di cui non si ha una conoscenza approfondita. Le prime categorie a rischio sono quelle degli insegnanti. Naturalmente AstraZeneca significa under 55. E questo è il nostro momento, dobbiamo assolutamente farlo, per noi è un privilegio. Per adesso tutto bene? Per adesso sì, è un po' doloroso nell'inoculazione, però insomma è sopportabile di particolare. Bene, grazie. Allora aspettiamo la seconda dose, vediamo che succede. Siamo molto esposti, siamo in contatto con tanti studenti, tante famiglie. Tra tre mesi faremo la seconda dose e dopodiché saremo coperti. Se si fa un po' tutti si riesce comunque a raggiungere un certo livello di protezione. Viva la scienza, viva la ricerca! Viva la scienza, viva la scienza, viva la scienza.